Gli incontri di oggi sono stati molto interessanti perché si è trattato di un tema centrale sia dal punto di vista legislativo ma non solo, anche culturale, cioè quello della cittadinanza digitale, per cui il progetto all'interno del quale sono stati previsti questi convegni è di grande rilevanza nel momento in cui intercetta l'interesse di imprese ma anche dell'università e quindi anche di cittadini comuni che si sono potuti avvicinare in queste giornate per approfondire delle tematiche che consentono di approfittare in maniera consapevole di quelle che sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, avendo però una panoramica anche di quelli che sono i possibili rischi e gli accorgimenti per evitare gli effetti negativi. Un momento anche di approfondimento di formazione di cui possono essersi avvalsi anche i dipendenti pubblici che abbiamo visto hanno partecipato a queste due giornate, quindi ieri e anche stamane.